Il quesito di ieri, cui vi ho proposto, erano appunto cosa sono i fermenti. Dobbiamo rifarci a molto tempo addietro. Vale sia dire siamo a fine 1800, quando lo scienziato Elia McIntosh, non McIntosh, scoprì che alcuni microrganismi, in particolare alcuni tipi di batteri, del ceppo Lactobacillus e poi scoprirà più avanti anche Bifidobacterium, avevano la potenzialità di creare un ambiente acido attorno a sé. Tutto ciò comportava di fatti un'inibizione della crescita di alcuni microrganismi patogeni. Questi ultimi di fatti potevano causare appunto disbiosi intestinale. Quindi una non corretto equilibrio, vale sia dire una crescita di patogeni che si erano considerati appunto negativi per la salute dell'individuo. Da lì e a tutt'oggi, la ricerca in ambito dei probiotici e poi anche dei prebiotici ha risalito molto, soprattutto per quanto riguarda i guadagni dell'industria stessa. Basti pensare che a tutt'oggi, per un nuovo tipo di ceppo probiotico ritrovato, riscoperto in laboratorio commercializzato, si possono fatturare davvero miliardi. Tutto ciò nasce dall'idea che a tutt'oggi la medicina moderna comunque sa che è certa la questione, ovvero sia che una corretta salute intestinale comporti molti, molti benefici. Perché tutto ciò? Nasciamo noi con un nostro secondo cervello, che è l'intestino. Un secondo cervello perché tramite le popolazioni microbiche che ha in esse, tra cui i probiotici, quindi che è un mix tra batteri, virus e funghi, dialogano con il nostro primo cervello, che è appunto l'encefalo. Ma tutto questo grazie ad alcune interconnessioni neuronali, il famoso asse intestino-cervello, tramite l'innervazione del decimo nervo vago, per essere più certi. Non è che di vaga, però si chiama vago. Tornando quindi a noi, la scoperta che hanno fatto poi è che noi, in base al nostro microbiota intestinale, possiamo gestire la nostra salute. E la salute chiaramente è dovuta sia ai nostri microbi presenti in esse, ma anche da come li accudiamo. Sono un po' come dei piccoli bambini. E questi bambini necessitano quindi di nutrimento, una corretta nutrizione fondamentale anche per il microbiota. Ecco perché all'altro ci sono anche i prebiotici, vale sia dire nutrimento per i probiotici. Spesso il prebiotico viene associato come la fibra, per esempio l'innulina. Ma ci sono altre serie di mix, comunque di substrati vegetali, che sono ottimali. Non è un caso che da studi clinici fatti, l'impatto per una corretta crescita del microbiota intestinale, in questo caso sia dovuto a un aumento stesso anche del quantitativo di fibra e quindi di vegetali. A discapi, come vedete, comunque occidentali, le quali prevedono comunque cibi ultra trasformati processati e addirittura comunque in questo caso potenzialmente cancerogeni per alcuni tipi di cottura. Ma non solo, anche l'ambiente esterno gioca un optimum risultato. Grazie. Grazie.